Si intensificano ulteriormente in questi giorni i controlli per verificare che nell'Alto Tirreno Cosentino si rispettino le misure di contenimento del contagio da coronavirus stabilite dal governo con il decreto del 9 marzo scorso. Schierati sul campo e in prima linea gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale, anche loro impegnati a cercare di far rispettare assieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere i contagi da coronavirus. A Scalea i posti di blocco sono stati approntati nelle strade principali dove sono stati verificati i documenti in possesso dei cittadini e in particolare le autocertificazioni scaricate dal sito del Ministero dell'Interno che consentono la circolazione per la città soltanto in caso di validi motivi come andare al lavoro, recarsi presso farmacie e strutture sanitarie o ancora fare la spesa. Nel complesso comunque sembra che la cittadinanza rispetti le direttive del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.